Il messaggio per i giovani dopo sette anni di crisi la cosa più importante credo che si possa dire è che la crisi gli elementi che hanno fondato la crisi non sono dietro le spalle sono ancora presenti viviamo in un'economia in un contesto in un'Europa in un'Italia che dal punto di vista demografico non presenta aspetti favorevoli ma abbiamo anche molti elementi che danno un'indicazione di tipo diverso oggi il clima è cambiato quindi direi che la cosa più importante per i giovani è ragionare su oggettivi cambiamenti che possono inoculare il batterio della fiducia posso dire così grazie infinito grazie mille grazie mille grazie mille